Una seduta mattutina la terza della settimana che accompagnerà la squadra a Verona dove affronterà il Chievo per la giornata di campionato che precede di fatto il ritorno con il Marsiglia, quindi si giocherà di venerdì sera. Inter che è scesa in campo come dicevo di mattina per poco più di 60 minuti, dopo il riscaldamento un lavoro sul possesso palla e quindi tutta una parte aerobica con esercizi appunto al possesso dedicati, ha svolto un programma tattico, ovviamente il tema era quello dedicato al Chievo e alla formazione di mister Di Carlo. Un programma tattico che è stato seguito da una partitella 11 contro 11 a campo ridotto, ritmi altissimi per poter incrementare ancora, migliorare se possibile lo stato di forma della formazione. Seduta individuale specifica e programmata per Esteban Cambiasso, lavoro invece di recupero, in questo momento ci dedichiamo a quelli che sono gli infortunati, dicevo recupero agonistico e della condizione per Fradi Guarin e per Andrea Ranocchia, per lui quest'oggi. Doppio allenamento domani giovedì 8 marzo, allenamento in pinettina sempre ad Appiano Gentile, poi conferenza stampa di mister Ranieri e pomeriggio partenza per Verona. Ovviamente vi rinviamo domani con tutti i contributi di Inter Channel, dalla conferenza stampa in poi con il nostro countdown per raccontarvi quella che sarà l'attesa di questa sfida. Questo per quello che riguarda l'allenamento, per ciò che invece concerne il mondo Inter, l'appuntamento è come sempre al TG di Inter Channel, canale 232 Sky, ore 19.30. Non dimenticatevi poi di abbonarvi al canale di YouTube di Offici Internazionali che da quest'oggi ha una nuova veste grafica.